si ricomincia rocker tv a lezione con me che sono alteria ciao come va tutto bene ci sto prendendo gusto potremmo stare qui non lo so mesi anni a raccontarci aneddoti storie bolla qualunque torno giù allora mi piaceva l'idea quest'oggi di condividere con voi un grande disagio un grande problema che tutti i professionisti della voce ma anche non i professionisti anche gli amatori della voce si dice gli amatori gli amatoriali gli amatori ma facciamo che si dice prima o poi nella vita incontrano problemi alle corde vocali possono essere di diverso di diversa tipologia ci possono essere cose più o meno complicate e siccome non mi piace nascondermi dietro un dito mi piace raccontare le cose come stanno ho un po' di step nella mia vita come cantante e speaker radiofonica che voglio raccontarvi il primo ho iniziato a cantare in maniera seria intorno ai 16 anni ho iniziato subito con un repertorio rock ricordo che il mio provino lo feci per una band milanese cantando all the line dei toto e portando forse nobody's wife di hanuk non non c'entra nulla però portai questi due brani da lì la band mi disse ok ti prendiamo iniziano i primi concerti concertini un giorno durante un live al terzo pezzo e ricordo anche esattamente che canzone fosse beach di meredith brooks non so se ve la ricordate I'm a bitch I'm a lover I'm a child succede questo zero voce affona completamente emorragia le corde vocali tu non potrai mai più cantare così mi è stato detto da un foniatra in realtà poi ho subito un intervento chirurgico ad una delle mie corde vocali a quella sinistra logopedia tanti mesi di logopedia ripresa e via e ora iniziato a cantare con della tecnica perché sono partita a cannone cantando rock sporcando la voce sai quella cosa che fai ehi che cerchi di sporcare ma mi sono fatta del male ok negli anni qualche problema l'ho incontrato ancora ovviamente quando la usi tanto la voce io la uso tutti i giorni in radio parlo 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 e poi vado a fare le prove poi magari la sera c'è un concerto bisogna stare attenti ci sono dei piccoli trucchi ne ho portato uno con me questo mi ha svoltato l'esistenza amici amiche non vuole essere una campagna promozionale potrebbe sembrarlo ma guardate la magia non esce droga non escono fumi particolari questo è praticamente un nebulizzatore di acqua che respirando in questo modo ci puoi applicare anche una mascherina va a idratare le corde vocali corde vocali che soprattutto in questo periodo caldo estivo aria condizionata si seccano di brutto e se tu le utilizzi piccoline non so se le avete mai viste le corde vocali probabilmente non abbiamo il tempo andare avanti otto ore le corde vocali sono piccole e tra di loro vibrano con il passaggio dell'aria se questo ambiente è secco le corde vocali si spaccano si fanno male questo è un portento amici veramente tenere le corde vocali idratate sembra una pubblicità ripeto ma non lo è e poi un consiglio che do sempre se avete occasione imparate con chi ve lo può insegnare bene degli esercizi di riscaldamento non andate mai a secco non andate mai a crudo cantare sopra le corde vocali perché si fanno male sono un muscolo e i muscoli hanno bisogno di riscaldamento quindi questo è un banale consiglio ma banale quanto fondamentale mi mando un bacio ci vediamo qui su rocker tv a lezione con alteria i